Fair play nella forma, durissima nella sostanza. La contrapposizione tra la difesa, l'ex sindaco Gianluca Festa e la procura di Avellino segna un nuovo capitolo dopo il terzo sequestro, due dei quali precedentemente annullati dal riesame, delle somme, 40.000 euro, prelevate dai conti correnti di Festa. Il segnale che lancia il penalista Luigi Petrillo è quello di non tenere ormai in alcun conto gli inviti a comparire. Per dire e aggiungere cosa? Lascia intendere il difensore quando scrive la posizione di Festa è stata abbondantemente illustrata a partire dal giorno dopo il 18 aprile quando a Festa venne notificata l'ordinanza di custodia ai domiciliari e successivamente con la memoria scritta depositata al GIP dopo la seconda ordinanza del 10 luglio scorso che a debita a Festa presunti episodi corruttivi insieme a tre imprenditori in rapporto di lavoro con il comune di Avellino. Il secondo arresto di Festa, sottolinea Petrillo, è avvenuto sulla base di intercettazioni esclusive prove a sostegno dell'ordinanza la cui trascrizione, come ha dimostrato la nostra consulenza tecnica, è incongruente rispetto ai colloqui effettivamente intercorsi tra Festa e gli imprenditori. Petrillo rampogna la procura anche sull'insistenza che l'ha portata per la terza volta al sequestro dei 40.000 euro. Reiterare anziché impugnare per la terza volta un provvedimento bocciato già due volte dal tribunale non è la strada maestra. In attesa della Corte di Cassazione che il 18 settembre si pronuncerà sulla illegittimità delle intercettazioni, la conclusione di Petrillo chiude momentaneamente la partita. Le indagini a carico di festa per corruzione falso e turbativa degli incanti non possono prolungarsi all'infinito. Si consenta dunque quanto prima il vaglio dei fatti addebitati davanti ad un giudice terzo nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità tra accusa e difesa.